Cari ortolani o aspiranti tali, vedete come prosegue l'orto che ho fatto diciamo in maniera sperimentale per voi, in maniera ultra biologica, in maniera che fosse con sostanze, con utilizzi che sono assolutamente alla portata un po' di tutti e con delle strategie nuove che sto sperimentando. Io faccio l'orto a tanti anni, ho degli orti chiaramente più estesi di questo, però per preparare una serie di filmati a seguire tutto l'anno ho pensato che questo orto di fondo valle, lungo il rio, fosse l'ideale per vedere l'evoluzione di queste piante. Vedete i pomodori, cocomeri, zucche, ci ho messo un po' di tutto, in uno spazio molto ristretto, ho cercato di ottimizzare lo spazio ma ovviamente lo sapevo ma le zucche vanno un po' per i fatti loro, crescono e prendono spazio. Per quello ho lasciato più spazio ai cocomeri in modo che crescendo più lentamente possano avere lo spazio, mentre qua vedete ho facciato solo giro giro in modo da lasciare poi spazio alle zucche di uscire e quindi di non andare a danneggiare l'orto dentro, mentre vedete qua di solito la prima zucca viene sempre, non allega, non riesce a avere una riproduzione e quindi va avanti la seconda o la terza. Vedete ho diverse varietà di zucche tra l'altro, la zucca violina, la zucca tipica di Halloween e ho anche queste zucche qua, vedete, poi vi farò vedere perché faccio un salto temporale, mentre qui vedete c'era ancora i residui di falciatura e nel salto temporale vedrete tutto cambiato e come saranno cresciute le piante. Vedete ho messo delle varietà molto diverse e vi ricordo che si parte in questo video da quando le semino, questa è la cosa interessante di questo esperimento. Cioè seguire un anno l'orto dalla semina, dal seme fino ad arrivare alla raccolta e oggi in questa puntata finalmente avremo il primo raccolto, certamente soprattutto di zucchini, però insomma vedete qui questo lato me ne sono dimenticato, è andato un po' oltre, però me lo sono mangiato lo stesso nel frattempo. Perché questo video l'ho fatto diversi giorni fa, mentre poi dopo, mentre i cetrioli vedete come salgono, questo cetrioli lo devo drizzare, rimettere su e poi raccoglierò i cetrioli anche e questa zucca anche. Questo è il primo raccolto ma poi ci sarà un nuovo raccolto poi nel video che ho fatto la settimana successiva che è sempre in questo video qua, quindi a seguire. Ho fatto diciamo la girata, il giro di due settimane con due innaffiature, prima che venisse la pioggia, vedete mi sono ritrovato addirittura sostanzialmente di notte ad annaffiare e dopo aver finito tutto la pulitura ho dovuto rimettere la pacciamatura, ho dovuto fare una serie di lavori, vedete è buio, completamente buio. Io come sapete mi trovo benissimo al buio e in natura, quindi è stato anche piacevole per il fresco fare questi lavori, ho dovuto legare i pomodori con la rafia, cose che vi ho fatto vedere nei video precedenti ecco, quindi è inutile che mi dilungo. Ma torniamo alla luce nella settimana successiva, vedete sono arrivato con la bici, non so se era la stessa dell'altra volta perché io utilizzo varie bici insieme, insomma a seconda di dove mi trovo e di cosa mi devo fare. E vedete già si nota l'aumento di crescita di tutto, dei concomeri che hanno fatto il loro strame, dei meloni, delle zucche che sono andate decisamente fuori in modo da non danneggiare l'orto. E questa tecnica ho utilizzato di alternare i pomodori da una parte, melanzane, zucche per ottimizzare lo spazio, diciamo ha funzionato in parte perché chiaramente le zucche sono andate un po' soprattutto anche se poi le ho mandate fuori diciamo. La speranza è che la zucca venga fatta dentro mentre poi prosegua fuori perché fuori ho messo la rete perché ci sono gli animali tipo le nutrie che si mangiano tutto ma che non entrano dentro la rete. Io ovviamente sono molto solidale con gli animali però diciamo che se non vale l'accordo di tenersi almeno metà del raccolto a chi lo ha seminato non va bene ecco, questo è il discorso. Stanno tra l'altro venendo i pomodori, sono un po' in ritardo rispetto ad altri pomodori certamente, magari anche ai vostri, però qui siamo in una zona bassa dove la stagione è un po' diversa, è fresco. Vedete qua queste zucche si stanno evolvendo verso il frutto, sono zucche straordinarie, hanno delle foglie vellutate, queste vengono fatte lesse, credo si chiamino zucche siciliane, almeno così le chiamo io. E credo anche che il seme non mi è stato regalato e poi dopo cinque anni sono riuscito a farlo rinascere, quindi mi è stato regalato una decina di anni fa e poi sono riuscito a riprodurle e farle rivivere diciamo senza perdere questa importante varietà. Mentre qua vedete la situazione, i pomodori hanno già fatto i loro frutti e presto raccoglieremo anche i pomodori sperando che non vengano attaccati dagli afidi e dalle cimici come è successo l'anno scorso. In questo caso dovrò ricorrere all'unico utilizzo diciamo possiamo dire chimico, l'olio di neem, anche se è un repellente, insomma non è così dannoso. Non si tratta di dare fitofarmaci ma di dare soltanto in questo orto ultra biologico al limite posso dare l'olio di neem. Cetriolo, vedete ha già fatto i loro frutti, i suoi frutti, questo è un cetriolo lungo, questo purtroppo è andato oltre, cetriolo corto, mi sono distratto una settimana, forse non l'avevo visto la settimana precedente, io purtroppo questo orto l'ho lontano da tutto e questo me lo sono mangiato crudo così perché ha già i semi abbastanza sviluppati. Mentre sto inquadrando i cetrioli comunque sono veramente lussureggianti e la posizione di quest'orto lo rende lussureggiante, anche se vedete da una parte ci sono le acce che limitano un po' la crescita, zucche da cogliere, c'è un sacco di cose da cogliere e insomma sto avendo soddisfazione. I melanzane ci vorrà tempo perché avendolo seminate tardi, vi ricordate nelle primissime puntate andatela a vedere, io sono partito dal seme, cosa è successo con le lumache? Mentre qua, ecco vedete il motivo per cui da parte di qua dell'orto le acace, da parte di qua dell'orto mi cresce un po' meno perché c'è più ombra, le piante anche i concomeri vanno a cercare la luce, anche le zucche, quindi vanno tutte nella stessa direzione, quella verso il sole. E come sempre vado a maffiare in quest'acqua del fiume che è pulita perché vi ricordo c'è anche il depuratore sopra e tra l'altro è un paese molto piccolo quello sopra, vado a prendere l'acqua e annaffio tutto, una decina di secchiate così, vedete c'è questa zona bassa, questa buca, si può riempire anche un po' meglio, volendo, con una certa tecnica e vado ad innaffiare l'orto, nella maniera più semplice, insomma più retriva possibile. E certo aver avuto un annaffiatore sarebbe stato meglio ma non l'ho potuto portare qua giù. Vedete qua mentre la pianta, la betulla gigante vi saluta, io mi vado a vedere il raccolto che ho fatto anche in questa settimana, quindi due settimane di raccolto che presto vi mostrerò e poi vi saluto e vi invito a iscrivervi al canale perché prosegue l'orto, potete vederlo nel suo sviluppo fino alla fine, speriamo a mangiare dei bei cocomeri anche, e io infatti vi saluto, arrivederci!